Benvenuti a Chi vuole essere Radio Italia, il quiz musicale che piace ai giovani ma anche agli adulti. Il concorrente di oggi arriva da Genova, il signor Paolo Chessisoglu. Sarà un po' emozionato, signor Chessisoglu. No, ma ne francamente sono perfettamente a mio agio. Ah, davvero? Perché invece normalmente sa le persone e poi quando sono davanti alle telecamere insomma si mettono un po' in soggezione. No, ma non sono quel genere di persone, sono una persona molto controllata. Bene, allora possiamo incominciare perché siamo in diretta. Siamo in diretta? Chissisoglu. Chissisoglu. Va bene, partiamo con la domanda. Lei sa che il 27 maggio a Milano si svolgerà a Radio Italia Live il concetto, il più grande evento della musica italiana. Tra gli 11 artisti che suoneranno c'è un clamoroso ritorno. Il vincitore del Festival di Sanremo 2017, Francesco Gabbani. Vamo. Conosce? Questa è la domanda. Sul palco del Festival di Sanremo 2017, con quale animale selvaggio si presentò Francesco Gabbani? A. Un gorilla. B. Un pettirosso. C. Una capretta. D. Un gattino. Beh, è difficilissima questa roba del selvaggio, mi depista. Noi la vogliamo aiutare, guardi attentamente questo video. Allora, è sicuramente uno dei due tizi nel video, me la voglio rischiare. È il gorilla. Risposta esatta, bravo signor Chesisoglu. Francesco Gabbani, anche lui, sarà nel supercast di Radio Italia Live il concerto il 27 maggio in diretta da Milano. E chissà, forse ci farà ascoltare anche il suo nuovo, fantastico singolo. È un'altra cosa. È un peccato perché il 27 maggio mia sorella non c'è, lei è una fan pazzesca. A di Gabbani. No, no, del gorilla, con la prevedia song. No, no, ma non vogliamo sapere. Tranquillo, signor Chesisoglu, sua sorella potrà seguire l'evento in tempo reale sul sito di Radio Italia e sulle pagine social ufficiali di Radio Italia, di Real Time, Facebook, Twitter e Instagram. Non vogliamo sapere la storia. No, perché è bella. No, no, no. Francesco Gabbani, anche lui, sarà a Milano il 27 maggio. Radio Italia Live il concerto 2019 che potrete seguire in diretta dalle 19.30 su Radio Italia, solo musica italiana, Radio Italia TV, Real Time e 9. Se sei tranquillo lo puoi seguire sui social. Sì, i social. No, social. Ecco il gorilla. Sì, sì, i social, social.